ciao a tutti anche nell'esercizio di oggi prenderemo in considerazione le animazioni dei caratteri del testo in particolare come vedrete useremo la proprietà character offset benissimo vediamo subito quello che dobbiamo realizzare come vedete il lavoro non si esaurisce soltanto con l'animazione del testo ma c'è parecchia altra roba da fare innanzitutto dovremo creare la tendina di transizione tra le varie scene che è realizzata con questi cinque rettangoli che riempiono l'inquadratura allargandosi in senso opposto e poi come vedete le parole si creano un poco per volta sfruttando appunto la proprietà che dicevo prima character offset in più qua e là durante le scene vedete che improvvisamente intervengono dei piccoli ingrandimenti dell'inquadratura e questi elementi di disturbo li realizzeremo come nell'esercizio precedente facendoci aiutare dai livelli di aggiustamento benissimo quindi direi che la prima cosa che incominciamo a creare è questa transizione fatta appunto di cinque rettangoli quindi torniamo in after effects creiamo una nuova composizione quindi composition new composition chiamiamo questa composizione animazione maschera usiamo come preset il solito nostro cioè hdtv 1080 25 e come durata gli diamo cinque secondi perché ogni scena non dura più di cinque secondi quindi in duration inserisco cinque secondi e do l'ok adesso prendo lo strumento rettangolo come vedete qui nella palette del fill ho già pronto il colore arancione che mi serve e quindi sono pronto a disegnare il rettangolo il primo lo disegno qui al centro e lo faccio più o meno di questo spessore qua poi disattivo il rettangolo cliccando in un punto vuoto della timeline e disegno un secondo rettangolo qua sotto un po più grande del primo magari di questa grandezza qui disattivo anche questo rettangolo e disegno un terzo qua sopra e poi un quarto che riempie lo spazio in basso e un quinto che riempie l'ultimo spazio vuoto in alto benissimo prendo lo strumento selezione e siccome voglio che il primo rettangolo il terzo e il quinto si allarghino da sinistra verso destra innanzitutto gli assegno l'anchor point sul lato sinistro quindi li seleziono tutte e tre il quinto poi tenendo premuto lo shift seleziono anche il terzo e il primo e con la palette move anchor point sposto l'anchor point qui appunto sul lato sinistro al secondo rettangolo e al quarto invece sposto l'anchor point sulla destra e quindi nella palette move anchor point clicco qua adesso possiamo fare contemporaneamente su tutti e cinque i rettangoli animazione sulla scala da zero a grandi così come si trovano quindi selezioniamo di nuovo tutti quanti i rettangoli clicchiamo il tasto s per evidenziare la proprietà scala prendiamo il cursore avanziamo nella timeline a circa un secondo e qui fissiamo la grandezza finale dei cinque rettangoli cliccando sull'orologio di scala e come vedete abbiamo un keyframe per ogni rettangolo poi prendiamo il cursore torniamo al tempo zero e azzeriamo tutte quante le scale dei rettangoli benissimo quindi come vedete i cinque rettangoli si allargano sia in altezza sia in larghezza in direzioni opposte però vogliamo anche che questi keyframe siano ammorbiditi quindi li selezioniamo tutti quanti e con la palette controllo is is gli assegno un valore abbastanza alto intorno ai 60 70 bene ultima cosa prima di fare la preview facciamo in modo che ci sia un po di ritardo fra i vari rettangoli il primo a partire è quello centrale quindi lo lasciamo qua poi secondo rettangolo lo spostiamo un paio di frame avanti della timeline in modo che arrivi un po più in ritardo e la stessa cosa la facciamo anche per gli altri rettangoli li spostiamo tutti quanti avanti di due frame rispetto al precedente benissimo adesso possiamo finalmente fare una preview benissimo direi che ci siamo ora useremo questa composizione sia come elemento grafico sia come maschera per far apparire la fotografia quindi adesso possiamo creare la composizione scena 1 allora composition new composition chiamiamo la composizione scena 1 e lasciamo tutte le altre impostazioni così come sono compreso la durata 5 secondi ok ora prima di inserire la composizione animazione maschera aggiungiamo la nostra prima foto che è questa qui naturalmente come al solito se anche voi volete usare le stesse due foto che sto usando io troverete i link all'interno di questa pagina del tutorial per scaricarvele bene proseguiamo innanzitutto aggiustiamo la dimensione di questa foto quindi evidenzo la proprietà scala e la riduco un po più o meno di questa grandezza qui e prima di applicargli la maschera facciamo anche un'animazione sulla scala in modo che abbia un lento ingrandimento durante i 5 secondi della composizione quindi al tempo zero accendiamo l'orologio della scala prendiamo il cursore andiamo in fondo la composizione e aumentiamo di qualche punto il valore della scala giusto per avere un minimo di ingrandimento benissimo adesso prendiamo animazione maschera la aggiungiamo sopra la foto e la usiamo per ritagliare la fotografia quindi qui nella timeline ho bisogno di mettere in evidenza la colonna track matte e siccome io non la vedo clicco sul pulsante toggle switches mode e dal menu in corrispondenza della colonna track matte come ben sappiamo attiviamo la voce alfa matte e quindi la fotografia appare grazie all'animazione dei rettangoli che abbiamo creato prima benissimo ma noi vogliamo che qualche fotogramma in anticipo si vedano anche i rettangoli arancioni quindi come abbiamo anche già fatto in altri esercizi cosa facciamo duplichiamo animazione maschera quindi la seleziono ctrl d la copia la voglio vedere quindi accendo l'occhiolino qui a sinistra ma non voglio vederla sopra la fotografia ma sotto quindi prendo il livello animazione maschera lo sposto dietro la fotografia poi prendiamo la foto e la sua maschera e li ritardiamo nella timeline di qualche frame facciamo anche in questo caso un paio di fotogrammi e come vedete adesso in anticipo rispetto alla foto si vedono appunto i rettangoli arancioni facciamo pure una preview benissimo quindi la transizione per far apparire la foto è completata bene ora concentriamoci sul testo motion graphics che è diviso in due linee motion lo disegneremo sopra una linea arancione qui e graphics sotto sopra una linea nera bene cominciamo con il disegnare la barra arancione in questa zona qui quindi disattiviamo tutti i livelli nella timeline prendiamo di nuovo lo strumento rettangolo e disegniamo appunto una barra io direi di questa lunghezza e questa altezza qua e siccome poi vogliamo allargarla da sinistra verso destra anche in questo caso con la palette move anchor point spostiamo l'anchor point sul lato sinistro magari rinominiamo questo shape layer barra arancione e sopra questa barra scriviamo la parola motion allora prendiamo lo strumento testo e scriviamo punto motion lo spostiamo un poco più a destra e lo allarghiamo io direi alto quanto la barra quindi più o meno di questa grandezza qua e come per le fotografie se anche voi volete usare lo stesso font che sto usando io che si chiama furore lo potete scaricare anche voi dal link che vi lascio nella pagina del tutorial bene adesso facciamo le animazioni sui due elementi sulla barra e sul testo incominciamo dalla barra arancione vogliamo che circa a un secondo nella timeline si allarghi da sinistra verso destra e questa animazione duri più o meno una decina di frame quindi seleziono la barra arancione clicco il tasto s a un secondo nella timeline voglio che soltanto la larghezza sia zero mentre l'altezza rimanga così com'è quindi spengo la catena a fianco ai parametri della scala e a zero soltanto il primo parametro accendo l'orologio della scala e come dicevo prima circa 10 frame dopo quindi a 1 e 10 più o meno riporto la larghezza della barra arancione al valore che aveva prima anche in questo caso voglio che i due keyframe siano ammorbiditi quindi li seleziono e con la palette controllo is easy gli assegno più o meno lo stesso valore che avevo segnato agli altri rettangoli benissimo quindi la barra arancione ha la sua animazione adesso concentriamoci sulla scritta motion voglio che la parola all'inizio non sia motion sia praticamente illegibile al posto di questi caratteri ce ne siano altri e poi una alla volta le lettere dovranno tornare alla parola motion quindi come vi avevo anticipato all'inizio lavoreremo sulla proprietà character offset che fa slittare i vari caratteri lungo l'alfabeto per fare appunto questa animazione quindi apriamo il contenitore del livello motion entriamo nella sezione text e nel menu animate appunto aggiungiamo la proprietà character offset ora come abbiamo imparato nella lezione sulle proprietà del livello testo se noi aumentiamo il valore di character offset vedete che tutti quanti i caratteri cambiano praticamente ogni carattere ha uno scostamento lungo l'alfabeto e lo portiamo a circa 30 quindi in questo caso significa che ogni carattere della parola motion si trasforma nel trentesimo carattere successivo all'interno dell'alfabeto bene ora però dobbiamo far tornare uno alla volta questi caratteri al loro valore originale e per farlo come ormai sappiamo sfrutteremo le proprietà del selettore range selector quindi apriamo range selector 1 andiamo direttamente in advanced e qui come facciamo spesso modifichiamo il parametro dell'intervallo di interpolazione da square a ramp up poi come facciamo sempre stringiamo un poco questo intervallo anziché da 0 a 100 lo portiamo a 50 in questo caso forse anche un po più stretto magari 60 per cento e ora come al solito facciamo l'animazione su offset da meno 100 per cento più 100 per cento benissimo voglio dire di cominciare anche l'animazione del testo più o meno a un secondo quando la barra sta entrando quindi più o meno qua in questo momento portiamo offset come dicevamo prima a meno 100 per cento accendiamo l'orologio e in questo caso circa un secondo e mezzo dopo quindi siamo a 1 andiamo a 2 e mezzo più o meno qua portiamo offset al suo valore massimo che è 100 per cento a questo punto tutte le lettere sono tornate al loro valore originale cioè motion benissimo però noi vogliamo anche che oltre a questa animazione le lettere appaiano una alla volta quindi dobbiamo aggiungere a fianco a questa proprietà character offset anche la proprietà opacità ed azzerarla quindi selezioniamo animator 1 andiamo qui sulla destra nella suo menu add e gli aggiungiamo la proprietà opacity eccola qua bene ora la azzeriamo e così facendo facciamo sì che all'inizio dell'animazione tutte le lettere sono spente e sono tutte quante traslate all'interno dell'alfabeto poi una alla volta appaiono e ritornano al loro valore originale benissimo ora sì possiamo fare la preview direi che ci siamo ora vogliamo una seconda barra qua sotto nera con la scritta graphics in bianco quindi possiamo duplicare questi due elementi e modificarli quindi chiudiamo il livello motion selezioniamo barra arancione e il testo e prima di duplicarli direi anche di trimmarli in modo che non siano visibili i primi frame quindi prendiamo il margine sinistro e lo tagliamo fino al primo keyframe dell'animazione bene adesso sì possiamo duplicarli quindi control d li prendiamo entrambi li spostiamo sotto il primo titolo e adesso possiamo prenderli e li spostiamo più in basso più o meno a questa altezza qui ora li modifichiamo incominciamo dal testo seleziono il secondo motion doppio clic e modifichiamo il testo in graphics magari lo spostiamo un poco più a sinistra in modo che le due lettere finali siano allineate ora nella palette character gli assegniamo il colore bianco cliccando qui la barra invece la vogliamo nera e che entri da destra verso sinistra quindi innanzitutto dalla palette fill gli cambiamo il colore in nero o forse meglio ancora in grigio scuro e diamo l'ok poi la prendiamo e la spostiamo fuori qui a destra ma come vedete la lunghezza finale non è sufficiente quindi mettiamo in evidenza i keyframe della scala cliccando il tasto s ci allineiamo con il secondo keyframe dell'animazione sulla scala quindi go to keyframe time e prima di aumentare la scala verso sinistra dobbiamo però stare attenti che l'anchor point si deve trovare però sul lato destro quindi con la palette move anchor point clicchiamo qua l'anchor point adesso al posto giusto e possiamo finalmente aumentare la scala direi di questa quantità qua e come vedete abbiamo due barre con due testi con l'animazione praticamente identica soltanto che la seconda barra quella nera con graphics la ritardiamo di qualche fotogramma quindi selezioniamo sia la barra sia graphics e la ritardiamo di qualche fotogramma facciamo 5 fotogrammi facciamo una preview direi che ci siamo bene e ora con dei livelli di aggiustamento creeremo quelli gli elementi di disturbo che in gergo si chiamano glitch che ingrandiranno l'immagine qua e là durante la scena quindi incominciamo ad aggiungere il livello d'aggiustamento andiamo nel menu layer new adjustment layer il livello d'aggiustamento però deve essere prima di tutti i livelli quindi lo prendo lo sposto in cima ai livelli e lo rinomino glitch che come dicevo è il termine che in gergo si usa per indicare appunto quei piccoli elementi di disturbo che rovinano l'immagine bene a questo livello d'aggiustamento come abbiamo fatto nell'esercizio precedente aggiungiamo l'effetto transform quindi andiamo nel menu effetti nella famiglia distort prendiamo appunto transform e anche in questo caso aumentiamo la proprietà scala io direi intorno ai 130 140 e magari con la proprietà position spostiamo anche l'ingrandimento un po più in alto oltre all'ingrandimento e lo spostamento però vogliamo anche che tutta quanta l'immagine all'interno del livello d'aggiustamento si ricolori di arancione quindi aggiungiamo anche un effetto tritone come avevamo fatto appunto nell'esercizio precedente quindi andiamo di nuovo in effetti color correction tritone bene tutta l'immagine viene virata verso un marrone chiaro ma noi apriamo la palette di mid tones e anche in questo caso assegniamo un valore arancione più o meno così ora noi non vogliamo che tutta quanta l'inquadratura venga distorta ma soltanto lungo delle barre orizzontali quindi riduciamo la grandezza del livello d'aggiustamento in modo che la distorsione avvenga in un'area limitata allarghiamolo anche un po' e la spostiamo un poco più in alto magari in questa zona qui bene però al momento questa distorsione avviene per tutta quanta la durata della composizione ma noi vogliamo che avvenga soltanto per pochi frame e per la precisione voglio che cominci a un secondo cioè nel momento in cui il testo sta per comporsi e duri soltanto tre fotogrammi quindi mi piazzo a un secondo trimmo il margine sinistro del livello d'aggiustamento poi avanzo uno due tre frame nella timeline e trimmo anche il margine destro fino a questo punto qui in modo che questa distorsione duri soltanto tre frame bene adesso questo livello d'aggiustamento lo replicheremo più volte e lo distribuiremo un po' più avanti quindi prendiamo il glitch lo duplichiamo ctrl d il duplicato lo spostiamo tre fotogrammi avanti in modo che cominci dove finiva il precedente e lo spostiamo in un'altra zona dell'inquadratura questa volta magari lo spostiamo più in basso lo facciamo un po' più largo tipo così poi lo duplichiamo un'altra volta ancora ctrl d lo spostiamo di nuovo avanti e il terzo lo facciamo un po' più sottile magari e lo mettiamo sopra il testo più o meno in questa zona qua quindi abbiamo in successione tre rapide distorsioni una in alto una in basso e una al centro poi direi di lasciare un attimo di pausa e a circa due secondi ricominciamo quindi di nuovo duplico l'ultimo lo sposto a due secondi questa volta lo spostiamo qui giù in basso duplichiamo un'altra volta il duplicato lo spostiamo in alto magari in questa zona qua poi duplichiamo un'ultima volta e l'ultimo invece lo restringiamo e come al solito lo piazziamo nella zona centrale io direi più o meno qua riguardiamo il tutto e vediamo se può andar bene come vedete questi elementi sono del tutto casuali possono essere piazzati in qualsiasi momento all'interno dell'inquadratura e agiscono appunto da elementi di disturbo per distorcere appunto l'immagine in modo random benissimo la scena numero uno è completata e ora passiamo alla seconda scena che otterremo rapidamente duplicando la prima quindi andiamo nella finestra di progetto selezioniamo scena 1 ctrl d in modo da ottenere una copia che è già nominata scena 2 quindi doppio clic su scena 2 che si apre nella timeline la prima cosa che facciamo è sostituire la foto quindi selezioniamo questa foto nella timeline prendiamo la foto nuova questa qui bike rider teniamo premuto il tasto alt e la rilasciamo appunto sopra quella da sostituire magari la spostiamo un poco più in alto in modo che il soggetto sia al centro dell'inquadratura e adesso modifichiamo le due barre di testo vogliamo che al posto di motion ci sia scritto after effects e al posto di graphics vogliamo tutorials quindi seleziono motion doppio clic al suo posto scrivo after effects magari lo restringiamo un poco in larghezza in modo che non occupi troppo spazio lo spostiamo magari anche con le frecce leggermente a sinistra e naturalmente dobbiamo fare in modo che la barra arancione si allarghi di più e che arrivi più o meno in questa zona qui quindi seleziono la barra arancione mi allineo con il secondo keyframe quindi go to keyframe time in questo momento aumentiamo la barra io direi circa qua vediamo se può andar bene direi che ci siamo ora modifichiamo graphics in tutorial quindi selezioniamo graphics doppio clic tutorials e in questo caso direi di allineare l'inizio di tutorial con l'inizio di after effects quindi lo spostiamo in qua fino a questo punto e anche in questo caso la barra nera sotto tutorials deve essere allargata un po più verso sinistra quindi mi allineo con il secondo keyframe della barra nera che è questo qua e aumento la scala più o meno così mentre i sei livelli di aggiustamento li lasciamo identici a quelli della scena 1 rivediamo il tutto direi che può andare bene ora la terza scena quindi seleziono scena 2 nella finestra di progetto ctrl d doppio clic su scena 3 e in questo caso non abbiamo bisogno della fotografia e della sua maschera quindi seleziono la foto e la maschera e li elimino e ci teniamo invece i rettangoli arancioni e dobbiamo fare in modo di avere un unico box nero qui con due scritte mg e tutorials in bianco quindi in questo caso possiamo eliminare innanzitutto la barra arancione che non ci serve più quindi la seleziono e la elimino after effects lo modifichiamo in mg bianco quindi doppio clic scriviamo mg e nella palette character gli assegniamo il colore bianco lo ingrandiamo molto di più io direi più o meno così e lo piazziamo al centro dell'inquadratura più o meno a questa altezza qui e per capire meglio dove si trova il centro dell'inquadratura possiamo mettere anche in evidenza le cornici di sicurezza quindi andiamo in questo menu qui in basso attiviamo title action safe e allora prendiamo mg e lo appoggiamo proprio qui al centro dell'inquadratura perfetto ora possiamo prendere tutorials metterlo qua sotto e ridurlo un poco di più io direi più o meno così ora dobbiamo riadattare questa barra nera in un rettangolo nero e avere un'animazione dal centro verso l'esterno quindi per comodità io direi di eliminare la vecchia animazione scala e poi rifarla da capo quindi qui nella timeline clicco sull'orologio della proprietà scala della barra e lo spengo in modo che l'animazione venga annullata a questo punto spostiamo l'anchor point dal lato destro al centro della barra cliccando al centro della palette move anchor point prendiamo la barra la spostiamo qui al centro e la ridimensioniamo io direi di questa dimensione qua e la spostiamo anche un poco più in alto benissimo ora prendiamo la barra nera nella timeline e la anticipiamo un po in modo che cominci con l'animazione di mg ora prendiamo il cursore andiamo a un secondo e 10 cioè nel momento in cui l'animazione della barra nera deve essere terminata e in questo punto accendiamo l'orologio della scala per fissare la grandezza finale del rettangolo prendiamo di nuovo il cursore torniamo indietro 10 fotogrammi e in questo momento dobbiamo azzerare entrambi i valori quindi riaccendiamo la catenella e azzeriamo appunto tutti e due i valori prima di fare la preview ammorbidiamo anche questi due keyframe e gli assegniamo lo stesso valore che abbiamo dato ai rettangoli precedenti quindi anche qui tra i 60 e i 70 benissimo facciamo una preview per vedere se la scena 3 funziona benissimo direi che ci siamo ora assembliamo le tre scene nella composizione finale quindi composition new composition chiamiamo questa composizione esercizio 11 finale lasciamo gli stessi parametri e gli diamo una durata tripla rispetto alle scene quindi anziché 5 15 secondi e diamo ok bene prendiamo la scena 1 la aggiungiamo nella timeline avanziamo circa 3 secondi 3 secondi e mezzo quindi più o meno qui in questo punto aggiungiamo la scena numero 2 e la portiamo appunto fin dove si trova il cursore poi avanziamo ancora fino a 6 7 secondi più o meno qui prendiamo la scena 3 e l'allineiamo col cursore qui benissimo prima di fare la preview finale dobbiamo soltanto aggiungere uno sfondo nero quindi andiamo in layer new solid e gli assegniamo appunto un grigio scuro diamo l'ok rinominiamo questo solido sfondo nero e lo mettiamo come ultimo livello ora possiamo finalmente fare la preview benissimo direi che ci siamo quindi anche questo esercizio finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao ciao